Destinazione lavoro, questo è l'obiettivo del percorso formativo destinato a 25 giovani da inserire come metalmeccanici nelle aziende del territorio del Valdarno. Il corso è stato illustrato nella sede della Presidenza della Regione Toscana dall'assessore regionale Cristina Grieco e vede coinvolti il comune di Figline e Incisa Valdarno, Lisis, Vasari e 12 aziende interessate ad assumere i giovani partecipanti. Questo è il modello che noi come Regione Toscana vogliamo valorizzare, quindi partire dal fabbisogno delle aziende e rispondere in modo puntuale a quel fabbisogno per evitare questo gap odioso e paradossale di un alto tasso di disoccupazione ma allo stesso tempo tante imprese che vorrebbero assumere e non trovano chi assumere. Il sindaco di Figline e Incisa Valdarno Giulia Mugnai, che ha ricordato il periodo difficile affrontato dal territorio valdarnese per la crisi dello stabilimento Becaert, ha spiegato che per il momento il corso serve a individuare personale metalmeccanico ma che in prospettiva l'idea è di creare percorsi formativi anche per altri ambiti. Ma quali sono i requisiti per partecipare? Il particolare è rivolto ai ragazzi che abbiano più di 18 anni e che abbiano raggiunto il quarto anno della scuola superiore ma che magari per varie ragioni possano anche aver abbandonato la scuola senza possedere il diploma del quinto anno di scuola superiore. Inoltre, oltre ai ragazzi sopra i 18 anni fino ai 30 è resa disponibile anche una parte riservata proprio a quelle persone che invece si trovano in disagio lavorativo e che hanno avuto esperienza nel settore metalmeccanico ma oggi si trovano in condizione appunto di disagio lavorativo perché senza un'occupazione. Il termine ultimo per presentare le domande scade il 31 gennaio.